Non facciano le persone adulte. Penso sempre, io ce la faccio, io sono in grado. Quello ha la tolleranza zero. E in questo caso, mai come in questo nuovo codice che è stato approvato a luglio, c'è stata una stangata per i giovani. È stato veramente un piccolo strumento, assistina, così via, che organizzò. Bravano, non doveva assolutamente parlare per non disturbare l'operazione. Tutto, sei pronto? Agge studiata. Agge studiata, brava, brava, brava. Chi sarà il concorrente di questa mattina? Bravo, Nicola. Si comprende l'esitazione a collocarlo, perché io... Dillo. No, tutti gli uno. E questa era la... 4, 7, 8, 5, scrivendo... Uno! Cosa rispondi? Hai fatto un calendario?